Baruch Spinoza, etica dimostrata in ordine geometrico, parte prima, su Dio. Con ciò che precede ho dato un'idea chiara della natura di Dio e delle sue proprietà, ossia del suo esistere necessariamente, del suo essere unico, del suo essere ed agire per la sola necessità della sua natura, del suo essere causa libera di tutte le cose e del come essere causa libera. Ho chiarito che tutte le cose sono in Dio e che dipendono da Lui in modo tale da non potere, astraendo da Dio, né esistere né essere pensate. E infine ho chiarito che ogni cosa è stata predeterminata da Dio, ma non già mediante una sua libertà di volere o una sua scelta arbitraria, bensì in conseguenza della sua natura, considerata in sé, che corrisponde al suo infinito potere. Dovunque poi ne abbia avuto l'occasione, io ho cercato di rimuovere i pregiudizi che potevano impedire la comprensione delle mie dimostrazioni. Ma poiché restano ancora parecchi pregiudizi che possono, come quelli già rimossi e anche più, impedire che i lettori affernino la concatenazione delle cose nella maniera in cui io l'ho spiegata, Ho pensato di esaminare qui, alla luce della ragione, anche quei pregiudizi restanti. E poiché tutti i pregiudizi che maccingo a sottoporre ad esame dipendono da quest'unico, che gli umani immaginano comunemente che le cose della natura operino, come essi stessi fanno, mirando a uno scopo, Addirittura essi danno per certo che Dio stesso diriga le cose a un fine determinato, avendo egli fatto ogni cosa a pro dell'uomo e avendo fatto l'uomo per essere da lui adorato, Io prenderò dapprima in considerazione questo solo pregiudizio e cercherò di scoprire, per cominciare, la causa per cui la maggioranza degli uomini se ne sta tranquilla in questo pregiudizio E la totalità è per natura così propensa ad accettarlo Mostrerò poi la falsità del pregiudizio in parola E infine mostrerò come dal pregiudizio stesso siano sorti gli altri pregiudizi che concernono il bene e il male, il merito e il peccato, la lode e il biasimo, l'ordine e il disordine La bellezza e la bruttezza e via dicendo Non è questo il luogo per mostrare come tali pregiudizi derivino dalla natura della mente umana Qui basterà riconoscere, ed io lo prenderò come fondamento, ciò tutti debbono ammettere Cioè che tutti gli umani nascono ignorando le cause delle cose E tutti sono portati istintivamente a cercare il loro utile E di questo hanno coscienza Di qui derivano alcune conseguenze Primo, gli umani sono convinti di essere liberi perché sono consapevoli delle loro volizioni e dei loro desideri istintivi E perché non pensano neanche in sogno, dato che ne sono ignari, alle cause che li orientano a desiderare e a volere Secondo, gli umani agiscono in ogni caso in vista di un fine Cioè in vista dell'utile che appetiscono E ne deriva che essi si preoccupino sempre di conoscere soltanto le cause finali di ciò che hanno compiuto E quando le abbiano apprese smettano di preoccuparsi E questo è ragionevole Poiché a questo punto non hanno motivo di porsi altri dubbi Non avendo nessuno che gli dia spiegazioni corrette Perché tutti si trovano nelle stesse condizioni Gli umani sono costretti a prendere se stessi come esemplare E a riflettere sui fini che di solito spingono ciascuno a compiere le azioni più comuni E in questo modo, col metro del loro sentimento, misurano tutto il resto della natura D'altronde, gli umani trovano in se stessi e all'esterno di sé Troppi mezzi assai efficaci per conseguire il loro utile Quali gli occhi per vedere I denti per masticare I vegetali e gli animali per nutrirsi Il sole che le illumina Il mare che alimenta per loro i pesci Perché essi non considerino da sempre, spontaneamente Tutte le cose della natura Come mezzi per raggiungere il loro utile E poiché sanno di non aver essi stessi apprestato quei mezzi Ma di averli trovati Ne hanno tratto il motivo per credere Che ci sia qualcuno, estraneo alla specie umana Che abbia prestato quei mezzi per loro Dopo avere scoperto nelle cose La qualità di mezzi Gli umani non hanno, evidentemente Potuto credere che quelle cose Si siano fatte da sé E tenendo conto di come essi Si apprestano i mezzi Di cui hanno bisogno Hanno dovuto concludere Che esistano uno o più reggitori della natura Forniti di libertà Come gli umani Che hanno disposto a favore degli umani Tutte le cose E le hanno tutte destinate al loro uso E anche il sentimento di quei reggitori Del quale essi non hanno mai avuto notizia diretta Gli umani hanno dovuto immaginare In base al proprio Ed hanno così stabilito Che gli dai dirigono tutte le cose Per uso degli umani Così da legarseli E da esser tenuti Da loro Nel massimo onore E di cui poi Ognuno è scogitato Secondo il suo modo di vedere I diversi modi Di render culto a Dio Così da essere amato da Dio Più degli altri E da meritare Che Dio Rivolga l'intera natura A pro della sua cieca cupidigia E della sua insaziabile avidità E questo pregiudizio Diventato superstizione Si è profondamente radicato nelle menti Ed è stato la causa Per cui tutti si sono dedicati Con ogni impegno A capire e a spiegare La cosa è arrivata Fra i tanti vantaggi Offerti dalla natura I ricercatori Hanno dovuto trovare Non poche cose svantaggiose Quali tempeste Terremoti Malattie Eccetera E hanno stabilito Che questo si verifica Perché gli dèi Sono irati A causa di offese Recate loro dagli umani O discorrettezze Quella incomprensibile Uniformità Fra le altre cose Ignote Delle quali non si conosce Il perché E conservare così La loro presente E innata condizione D'ignoranza Sia più facile Sia più facile Che demolire Tutte quelle loro costruzioni E concepirne un'altra Nuova E su una tale base Hanno decretato Come cosa certa Che le risoluzioni Degli dèi Superano di gran lunga Il comprendogno Umano Questo Trovato Da solo Sarebbe stato Sufficiente A che la verità Restasse In eterno Nascosta Al genere umano Se la matematica Che si occupa Non dei fini Ma delle essenze E delle proprietà Delle figure Non avesse mostrato Agli umani Un altro criterio Di verità E oltre alla matematica Si può indicare Senza che sia necessario Enumerarli qui Altri fattori Grazie ai quali Ha potuto accadere Che taluni umani Si siano accorti Della natura Di pregiudizio Che hanno Queste credenze Comuni E siano riusciti A giungere Alla vera Conoscenza Delle cose Con quanto precede Ho spiegato A sufficienza Ciò che mi ero Proposto Come primo punto Per mostrare Ora Che la natura Non ha Alcun fine Che le sia Stato prefissato E che tutte Le cause Finali Non sono Invenzioni umane Non ci vuol Molto Credo infatti Che questo Risulti chiaro Tanto tenendo conto Dei fondamenti E delle cause Dai quali ho mostrato Che il pregiudizio in parola Ha tratto origine Quanto rammentando La proposizione Sedici E i corollari Della proposizione Trentadue E inoltre Tutte le altre Proposizioni Con le quali Ho mostrato Che nella natura Tutto È prodotto Ed accade Per una certa Necessità Eterna E con una Perfezione Suprema Aggiungerò Tuttavia Ancora Un'osservazione Che questa Dottrina Dei fini Sconvolge Completamente La natura Essa Infatti Considera Come effetto Ciò che In vero È causa E viceversa Poi Mette Dopo ciò Che per natura È prima E infine Riduce Imperfettissimo Ciò che Per natura È supremo E perfettissimo Lasciamo Da parte I primi Due punti Che sono Evidenti Di per sé Quanto al terzo Come risulta Dalle proposizioni 21 22 23 È perfettissimo Quell'effetto Che è prodotto Da Dio Immediatamente Ed una cosa È tanto più Imperfetta Quante più Sono le cause Intermedie Di cui Essa ha bisogno Per essere Prodotta Ma se le cose Che sono state Prodotte Immediatamente Da Dio Fossero state Fatte Perché Dio Conseguisse Un suo fine Allora Le ultime A causa Delle quali Sono state Fatte Le prime Sarebbero Necessariamente Le più Eccellenti Inoltre Questa Dottrina Annienta La perfezione Di Dio Dato che Necessariamente Si agisce In vista Di un fine Dio Manca di qualcosa Che desidera E cerca E quantunque I teologi E i metafisici Distinguono Tra fine D'indigenza Dio creerebbe Le cose Perché ne ha Bisogno E fine Di assimilazione Dio Vuole che le cose Siano Per attribuire Ad esse La sua Beatitudine Essi Tuttavia Confessano Che Dio Ha fatto Tutte le cose Per se stesso Non per le creature Essi Infatti Non possono Trovare Che prima Della creazione Ci fosse Un qualche Ente Oltre a Dio A causa Del quale Dio Operasse E pertanto Debbono Necessariamente Ammettere Che Dio Mancava Delle cose Di cui Ha predisposto L'esistenza E le desiderava Come è evidente Da sé Non si deve Poi Passare Sotto Silenzio Che i seguaci Di questa Dottrina I quali Con l'individuare I fini Delle cose Hanno voluto Mettere in mostra Il loro Ingegno Hanno Per rendere Plausibili Le loro Affermazioni E scogitato Una nuova Maniera Di Argomentare La riduzione Non all'impossibile Ma all'ignoranza E questo Mostra Che per Sostenere La loro Dottrina Non c'era Alcun Argomento Vero Per fare Un esempio Se una Tegola È caduta Da un Tetto Sulla Testa Di qualcuno E l'ha Ucciso Essi Dimostrano Nel modo Seguente Che la Tegola È caduta Per uccidere Quell'uomo Se la Tegola Non è caduta Per volontà Di Dio Al fine Predetto Chiederanno Come mai Tante Circostanze Perché spesso Sono molte A concorrere Hanno potuto Concorrere Casualmente Qualcuno Risponderà Che il caso Avvenne Perché tirava Vento E perché L'uomo Aveva bisogno Di passare Di là Ed Essi Diranno E perché Il vento Soffriò Proprio Allora E perché Quell'uomo Doveva passare Di là Proprio Nello stesso Tempo Qualcuno Replicherà Che il vento S'era levato Proprio Allora Perché Il giorno Precedente Mentre Il tempo Era ancora Calmo Il mare Aveva cominciato Ad agitarsi E l'uomo Era stato Invitato Da un amico Ed essi Di nuovo Perché Si può Domandare All'infinito Perché Il mare Era mosso Perché L'uomo Era stato Invitato In quel momento E non Smetteranno Di chiedere Le cause Delle cause Finché L'interlocutore Non si Rifugierà Nella volontà Di Dio Cioè Nel ricovero Dell'ignoranza Per fare Un altro Esempio I seguaci Della dottrina Dei fini Stupiscono Quando si Pongono A considerare La struttura Del corpo Umano E Siccome Ignorano Le cause Di un così Mirabile Meccanismo Concludono Che esso Non sia Costruito Da sé Per certe Sue Leggi Intrinseche Ma è Il prodotto Di un'arte Divina E soprannaturale Dalla quale Esso È stato Congegnato In maniera Che un pezzo Non danneggi L'altro O piuttosto Che ogni pezzo Cooperi Con ogni altro Vigendo Tali criteri Accade Che chi Vuol Conoscere Le vere Cause Degli eventi Miracolosi Come chi Cerca Di capire Da scienziato Le cose Della natura E non Di meravigliarsene Da sciocco Sia In generale Giudicato Eretico Edempio E proclamato Tale Da coloro Che il volgo Venera Come interpreti Della natura E degli dèi Costoro Sanno Infatti Che eliminando L'ignoranza Si distrugge Anche Lo stupore Cioè L'unico Mezzo Che essi Hanno Di conservare Credibile E di salvaguardare La loro autorità Ma ora Lascio Questo argomento Per passare A quello Che ho stabilito Di trattare In terzo luogo Essendosi Persuasi Che tutto Ciò Che accade È finalizzato A loro Gli umani Hanno dovuto Arrivare A giudicare Che in ogni cosa Il più importante È ciò Che è più utile A loro E che le cose Più eccellenti Sono quelle Che danno A loro Maggior piacere Su questa base Di lode Di lode E di biasimo Di peccato E di merito Di queste Ultime nozioni Mi occuperò Più avanti Dopo avere Trattato Della natura Umana Qui Invece Spiegherò Brevemente Le prime Gli umani Dunque Hanno chiamato Bene Tutto ciò Che favorisce La salute E inclina Al culto Di Dio E male Ciò che è Contrario A queste cose Essi Poiché Non penetrano Intellettualmente La natura Delle cose Ma si limitano All'apparenza Di esse Che colpisce La loro Immaginazione Non possono Prendendo L'immaginazione Per l'intelletto Esprimere Sulle cose Giudizi Corrispondenti Al vero E così I gnari Della natura Delle cose E anche Della natura Propria Credono Fermamente Che nelle cose Ci sia Un ordine Infatti Quando determinate Cose Sono disposte In maniera Tale Che noi Dopo averle Considerate Possiamo Facilmente Figurarcele Nella mente E quindi Facilmente Ricordarle Noi Le diciamo Bene Ordinate Quando invece Accade Il contrario Noi Diciamo Quelle cose Male Ordinate O Confuse E poiché Le cose Che noi Immaginiamo Facilmente Ci piacciono Più Delle Altre Gli umani Preferiscono L'ordine Alla Confusione Come se L'ordine Della natura Fosse Non qualcosa Non qualcosa Che vi scopre La nostra Immaginazione Ma una realtà E dicono Che Dio Ha creato Le cose Con ordine Attribuendo Con ciò A Dio Senza Saperlo Un'immaginazione O Magari Convincendosi Che Dio A favore Dell'immaginazione Umana Abbia Disposto Le cose In modo Da poter Essere Immaginate Con la Maggior Agevolezza E forse Avviati Gli umani Su questa Strada Non li Tratterà Il riflettere Che ci sono Infinite cose Che superano Di parecchio La nostra Immaginazione E molte Che la Confondono Debole Com'è Ma di questo Ho detto Abbastanza Per quanto Concerne Le altre Nozioni Anch'esse Non sono Altro Che modi Dell'immaginazione Dai quali L'immaginazione È variamente Interessata Ma gli Ignoranti Le considerano Attributi Principali Delle cose Dato che Come abbiamo Già detto Essi Credono Che tutte Le cose Siano state Prodotte In vista Di loro Stessi E chiamano Le cose Buone O cattive Sane O guaste O marce A seconda Del modo In cui Ne sono Toccati Per esempio Se la Sollecitazione Che arriva Ai nervi Dagli oggetti Percepiti Attraverso Gli occhi Procura Un senso Un senso Di benessere Gli oggetti Che ne sono Causa Sono chiamati Belli Gli oggetti Da cui proviene Una sollecitazione Sgradevole Sono chiamati Brutti Gli oggetti Poi Che sollecitano I nervi Tramite L'odorato Sono A loro volta Detti Profumati O maleodoranti Quelli che sono Percepiti Dalla lingua Sono detti Dolci O amari Saporiti O insipidi Quelli che sono Percepiti Dal tatto Sono detti Duri O molli Ruvidi O lisci Di quelli Infine Che sollecitano I nervi Per il tramite Degli orecchi Si dice Che producono Un rumore O un suono O un'armonia A proposito Di quest'ultimo Caso La follia Degli umani È arrivata Al punto Di credere Che dell'armonia Si diletti Anche Dio E nemmeno Mancano Filosofi Profondamente Convinti Che i movimenti Dei corpi Celesti Producano Un'armonia Tutti Questi fatti Mostrano A sufficienza Che sulle cose Ciascuno Ha espresso Giudizi Conformi Alle caratteristiche Del suo cervello O meglio Che la gente Ha preso In luogo Delle cose Ciò che la sua Immaginazione Risentiva Delle cose Stesse Per questo motivo Non c'è Da meravigliarsi Notiamo Di passaggio Anche questo Che tra gli umani Siano sorte Tutte le controversie Filosofiche Che conosciamo Così bene E che da esse Si è infine Uscito Lo scetticismo Le strutture Ma mi fermo Ma mi fermo Qui Sia perché Non è questa La sede Per diffondersi Su un tale Argomento Sia perché Tutti Ne hanno fatto Sufficiente Esperienza Tutti Tutti Infatti Sanno Che quante teste Tanti pareri Che ognuno Stima D'aver giudizio Anche più Del necessario Che ci son Tante differenze Fra le idee Quante Fra i gusti Detti Questi Che mostrano A sufficienza Come gli umani Giudichino Delle cose Secondo La disposizione Del loro Cervello E come Le immaginino Più che Comprenderle Se infatti Gli umani Le comprendessero Mediante L'intelletto Le cose Nella loro realtà Come testimonia La matematica Potrebbero Magari Non attrarre Tutti Ma almeno Convincere Tutti Alla stessa Maniera E dunque Evidente Che tutte Le nozioni Con le quali La gente E usa A spiegare La natura Non sono Altro Che modi Dell'immaginazione E non Chiariscono La struttura Interna Di alcunché Ma soltanto Ci informano Sulla Costituzione Dell'immaginazione E poiché Questi enti Hanno dei nomi Come se si trattasse Di realtà esistenti Fuori dell'immaginazione Io li chiamo Enti Non di ragione Ma di immaginazione E così È facile Confutare Tutti gli argomenti Che vengono Tratti Da quelle Nozioni Contro Il nostro Modo Di vedere Molti Infatti Sogliono Argomentare Così Se tutte le cose Sono uscite Dalla necessità Della perfettissima Natura Di Dio Di dove Provengono Dunque Alla natura Tante Imperfezioni Le cose Che si guastano Fino a puzzare Le cose Tanto brutte Da suscitare La nausea Il disordine Il male Il peccato Eccetera Ma L'ho detto Or ora È facile Confutare Quei tali La perfezione Delle cose Infatti Si deve Valutare Solo Il riguardo Della loro Natura E della loro Potenza E le cose Non sono Più o meno Perfette A seconda Che dilettano O urtano I sensi Degli umani A seconda Che sono Gradite Alla natura Umana O ad essa Ripugnano A coloro Poi Che chiedono Perché Dio Non ha creato Tutti gli uomini In modo tale Che essi Fossero guidati E indirizzati Soltanto Dalla ragione Rispondo Semplicemente Che a lui Non mancò La materia Per creare Tutto Dal sommo Grado Di perfezione Giù Fino All'infimo O Per parlare Più propriamente Che le leggi Della sua natura Sono state Tanto ampie Da bastare Alla produzione Di tutte le cose Che possono Essere concepite Da un intelletto Infinito Come ho dimostrato Con la proposizione 16 Ho così Sistemato I pregiudizi Che mi ero Proposto Di mettere In evidenza Se ne restano Altri Dello stesso Tipo Ciascuno Potrà Facilmente Emendarsene Con un poco Di riflessione Dello stesso Dello stesso Dello stesso